Siamo qua in conferenza stampa per presentare il progetto Gubbio Brickart, quello che si ritiene fino ad ora essere l'unico progetto espositivo dedicato al sessantesimo anno dalla fondazione dell'azienda danese Lego, quindi un marchio storico del mondo del divertimento dei bambini che però è sempre un'icona anche per gli adulti. La mossa verrà inaugurata questa settimana a partire dal 29 marzo e oggi insomma insieme ai presidenti delle associazioni che hanno collaborato all'iniziativa presentiamo il progetto nei suoi contenuti. Io ringrazio il sindaco, il professor Stirati per essere oggi qua in qualche maniera a sostenere l'iniziativa. Sì, credo che sia più che doveroso ma soprattutto tagliamo un traguardo importante perché è da tempo che con gli operatori del turismo, con le associazioni che li rappresentano, con le varie associazioni di categoria stavamo costruendo delle azioni diciamo così efficaci per promuovere la città. Una di queste è senz'altro l'operazione Lego che è sicuramente un grande marchio, un grande brand e direi che può rappresentare un ottimo strumento di richiame di promozione soprattutto nei confronti delle famiglie che sono un target per noi di fondamentale importanza. Quindi ecco credo che da questo punto di vista dobbiamo ritenerci più che soddisfatti nell'aver portato avanti questa iniziativa e soprattutto nell'aver saputo fare squadra rispetto a un obiettivo come questo. Noi ci insistiamo da tempo per fare turismo ad alto livello, per promuovere la città, per creare prodotti che si coniughino perfettamente anche con le caratteristiche della nostra città riteniamo che questa sia la strada giusta. E quindi tra l'altro valorizziamo un contenitore come quello di Santo Spirito che sta tornando diciamo così ad alti livelli e tra l'altro a breve tornerà definitivamente in pieno possesso dell'amministrazione comunale della città e quindi vogliamo proprio spenderlo per obiettivi come questo e tanti altri che vi si potranno costruire tenendo conto che si trova anche in un punto cruciale strategico per lo stesso nostro centro storico e quindi ecco diciamo che c'è un insieme di ingredienti che sicuramente ci fanno dire che stiamo andando veramente nella direzione di marcia giusta. Io immagino che già la ripresa che c'è stata negli ultimi mesi possa consolidarsi e possa vedere nel 218 un'ulteriore espansione per quello che riguarda la presenza ed arrivi di tipo turistico. Perfetto grazie al sindaco siamo nelle fasi cruciali della parte degli allestimenti il progetto è stato faticoso lungo nella programmazione e la progettazione ora siamo proprio alle battute finali all'assessore Nello Firucci insomma lascia una battuta anche magari relativa alla cooperazione che c'è stata fra le associazioni che hanno portato poi alla realizzazione del progetto che è l'associazione Medusa che gestisce parte dei musei cittadini, l'associazione Host che rappresenta gli operatori alberghieri e i ristoratori di Gubbio e l'associazione Iridium insomma che è una parte importante legata alle attività agrituristiche regionali. Assessore due battute? Io ribadisco la soddisfazione per vedere questo progetto arrivato alla fase operativa è un progetto che mi interessa molto come assessorato al turismo perché prima di tutto vede l'amministrazione comunale collaborare attivamente con le associazioni appena menzionate perciò usciamo da un'ottica per cui ognuno fa un pezzo di quello che è poi lo sforzo per vendere la città al turismo ma entriamo invece nella fase in cui si collabora e si coopera tutti insieme. È molto importante questo tant'è vero che noi come Comune abbiamo anche sostenuto questa operazione non tanto nell'organizzazione dell'evento ma nella creazione di prodotti turistici collegati alla presenza dell'evento e rivolti alle famiglie proprio al prodotto famiglie in particolare per cui abbiamo attivato un bando nell'anno passato che verrà poi speso quest'anno proprio per sostenere questa attività di promo commercializzazione e il progetto Brickart è quello che è riuscito vincitore, ci sono due progetti che sono stati finanziati ma quello che ha ottenuto la migliore valutazione è stato proprio questo progetto perciò siamo molto contenti che sia arrivato alla fase operativa e che possa essere un'occasione per creare proprio un'offerta turistica mirata che nasce intorno alla presenza di questo evento. Perciò tanti complimenti a chi ha lavorato con grande fatica su questo progetto e quando si parte in queste attività di gruppo è sempre complicato partire. Speriamo che questa esperienza sia poi la prima di una serie meno faticosa di altre esperienze. Grazie Assessore, è vero la coordinazione è stata complicata all'inizio ma in realtà c'è stata molta collaborazione fraterna e ci siamo molto fidati l'uno dell'altro, delle capacità non solo dei presidenti che siamo qua in rappresentanza delle associazioni ma di tutti gli associati che sono qua anche presenti oggi, delle associazioni perché l'evento non è stato fatto solo da chi presiede poi gli enti ma da tutti quelli che effettivamente hanno fatto cerchio e collane intorno al progetto e ci hanno aiutato dall'inizio fino alla fine, cioè fino all'ultimo giorno in cui la mostra sarà aperta al pubblico perché poi il lavoro sarà costante di promozione e ne parleremo poi dopo. Mario Salcerini, presidente di Ridium, lascio a te una battuta. C'è solo una battuta per ribadire questo che oggi presentiamo un grande evento per due ragioni. La prima perché stare insieme ha significato riuscire a creare questo evento che è importantissimo e l'altro successo è proprio lo stare insieme, come diceva sia il sindaco che l'assessore, mettere insieme le forze, mettere insieme le associazioni e insieme costruire il futuro di questo nostro territorio abbiamo capito che funziona e va bene. Quindi questa è una prima grossa esperienza e speriamo che abbia un futuro e sicuramente ce l'avrà. Mario, lascio a te. Sì, io altro non faccio che ribadire le cose già dette. È stata un'avventura, questa la nostra, non prima, l'avventura zero, chiamiamola così, molto impegnativa ma anche molto bella, una scoperta che sul territorio mancava questa cosa di collaborare fra associazioni e creare veramente un bel progetto. L'augurio è quello che tutto questo possa continuare poi negli anni perché comunque insomma ci siamo trovati bene, quindi insomma che dire. Niente, nient'altro se no aggiungerei cose già dette. Grazie, quindi ricordo che la mostra verrà aperta al pubblico dal 29 marzo, sarà aperta tutti i giorni fino al 17 giugno, le attività collaterali saranno moltissime, dalla parte laboratoriale a quella espositiva. È una mostra che ha un target sì familiare ma non solo dedicato ai bambini, ci sarà una sezione vintage per tutti gli appassionati, quindi è un po' un prodotto turistico che può accontentare tutti, sia i turisti ma anche i cittadini che spero verranno numerosi, insomma. È l'impegno di tre associazioni che sul territorio si stanno spendendo già molto e sperano di portare un'aggiunta importante per il territorio e per l'offerta turistica. Grazie.